Il governo ha scelto ufficialmente l'applicazione per tracciare gli spostamenti che servirà alla gestione della cosiddetta fase 2. Si chiama Immuni e risponde ai criteri fissati dall'Europa. Volontarietà anonimato e uso della tecnologia Bluetooth. Ma per farla funzionare bisognerà convincere il 60% degli italiani a utilizzarla. Paolo Maggioni ne ha parlato con Luca Foresti del centro medico Sant'Agostino. Sentiamo. Luca Foresti, come funzionerà l'app Immuni? Avrà due elementi. Uno, un sistema di contact tracing tramite una tecnologia che si chiama Low Energy Bluetooth. Il secondo elemento, un diario clinico all'interno del quale le persone possono inserire informazioni sulla loro salute, ovviamente relative al Covid. Qual è l'obiettivo più alto che vi ponete nel tracking dei soggetti positivi? L'obiettivo è quello di individuare quanti più possibili persone che sono entrate in contatto con persone certamente positive per poter limitare il numero di coloro che sono in circolazione che possono avere il virus. Come affronterete le difficoltà nel coinvolgere alcune categorie di cittadini? Penso agli anziani e ai bambini che non hanno accesso a uno smartphone. Queste categorie non potranno usare il sistema. Abbiamo inserito all'interno del diario clinico la possibilità di inserire i dati anche per altre persone. Però ovviamente per un anziano che vivesse in una casa lontano questo non funzionerebbe con il contact tracing. L'app da sola non può bastare? Serve un progetto più ampio? L'app è un tassello di una strategia più generale che il governo dovrà decidere e che appunto serve per essere più chirurgici insieme a sistemi di testing e insieme a sistemi di caring, cioè di presa in carico dei bisogni delle persone per combattere il virus su tutto il territorio nazionale.